Ciao a tutti, non hai perso nessuno, sono gli altri che hanno perso te. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 24 gennaio, ore 20.45, col mio seminario dal titolo Se soffri o non è amore e come sedurre le persone giuste. Riferimento 333 15 11 703. Seminario di Milano, domenica 1 marzo, full immersion, 9.30.19, autostime e seduzioni in amore nel lavoro. Riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo di notte che sul canale Massimo Termasco è attivo il servizio abbonamenti, per cui abbonati al canale Massimo Termasco e potrai ottenere delle lezioni mirate, potrai ottenere anche a livello top, oltre alle lezioni mirate, anche le videoregistrazioni dei seminari che faccio dal vivo. Quindi abbonati, è facile, basta andare sull'home page, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati. Bene, veniamo al tema, veniamo al dunque. Non hai perso nessuno, sono gli altri che hanno perso te. Perché quando una persona ti lascia, quando una persona si allontana dalla tua vita, automaticamente devi creare un ancoraggio per cui dentro la tua testa, dentro la tua testa devi scattare il pensiero, poverino, poverina, non sa quello che si è perso. Non sa quello che si è perso. Perché se tu inizi a dire, ma come mai, ma perché è successo questo, perché è successo, entri in uno stato in cui entrerai in uno stato di sofferenza totale e continuerai a soffrire di volta in volta, perché rimuginando ti troverai una spiegazione. Sai quale sarà la spiegazione? Che sei tu che non va bene, che c'è qualcosa in te che non va, che non sei la persona adatta, che non sai fare le cose, che sbagli sempre. E quindi ti farai delle profezie di impedimento, di incapacità, di sventura. E queste profezie te le porterai dietro con te nel tempo, senza possibilità di uscirne fuori. E questo è estremamente negativo. Per cui se qualcuno ti lascia, devi tirare fuori la tua autostima. Se tu penserai, poverino, poverina, non sa quello che si è perso, non sa quello che si è perso, imparando in questo modo a gestire le tue emozioni, la tua autostima, ta 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 ta, salirà verso l'alto molto rapidamente. Altrimenti scenderà verso il basso. Quindi dipende esclusivamente da te. Quindi ti esorto a, come dire, renderti conto che sono gli altri che hanno perso te. Tu non hai perso nessuno. Per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di venerdì 24 gennaio, Torino, ore 20.45, col mio seminario Se soffri non ne amore come sedurre la persona giusta, è riferimento 333 1511 703. E inoltre vatti abbonare al canale Massimo Terramasco perché inizierai un percorso di crescita personale molto importante. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao.